Essere green o non essere green? Questa non è più una scelta ma una necessità, soprattutto dopo l'imposizione dell'Unione Europea di ridurre entro il 2030 le emissioni dei trasporti di bene il 60% rispetto ai livelli del 1990, una scelta necessaria per la sostenibilità del nostro Paese. Venendo alla nostra domanda, è vero che il veicolo elettrico è completamente ad emissioni zero? Diciamo che il veicolo elettrico è una soluzione per ridurre le emissioni, per migliorare la qualità della vita e sicuramente raggiungere l'obiettivo imposto dall'Unione Europea. Ma cerchiamo di capire perché il veicolo elettrico non è totalmente a emissioni zero. Innanzitutto è importante capire che cosa intendiamo quando parliamo di emissioni. Le emissioni sono dei gas, delle particelle che vengono iniettate nell'aria, che quindi vanno a generare dell'inquinamento e un riscaldamento globale. Per esempio il processo di combustione dei combustibili fossili per la generazione di energia elettrica determina sicuramente queste particelle. Capite bene che l'energia elettrica risulta essere il termine chiave per la nostra macchina elettrica. Senza energia elettrica il nostro veicolo elettrico non potrebbe funzionare, non potrebbe muoversi. Cambiamo prospettiva. Sostituiamo il parco circolante di macchine tradizionali diesel e benzina con macchine elettriche. In loco le emissioni si riducono drasticamente, ma il problema non si risolve perché lo si sposta semplicemente a monte, ossia nelle centrali elettriche che producono quell'energia necessaria per permettere il movimento del veicolo elettrico. Qui entra in gioco il concetto di mix energetico, la necessità quindi di produrre l'energia elettrica impiegando dei metodi alternativi, quindi per esempio l'impiego di energia pulita, di rinnovabili come il sole e il vento. In termini di performance ambientali il veicolo elettrico non ha competitor rispetto a macchine tradizionali, soprattutto perché durante il suo movimento il veicolo elettrico non avendo una marmitta non genera e non emette nell'aria polveri sottili, tendenzialmente chiamate con l'acronimo PM, e ossidi di azoto NOx. Quindi è necessario cambiare il concetto di mobilità, soffermandoci soprattutto sulla sostenibilità del nostro pianeta, di fatti una Green Mobility.